Se siete in vacanza evitate di condividerlo sui social. È l'appello lanciato dalla Polizia di Stato sui social network attraverso il canale di Agente Lisa, che in vista delle vacanze estive dà alcuni consigli agli utenti per arginare le potenziali visite ai topi di appartamento. D'estate, periodo con meno gente in città, i ladri d'appartamento sono invece all'opera, spiegano dalla pagina di Agente Lisa. A volte per prendere informazioni si aiutano proprio con i social network. È facile reperire nomi e cognomi e scoprire se i proprietari sono in casa o in viaggio, per decidere se tentare un furto. Consiglio, per condividere i bei momenti delle ferie estive aspettate di essere tornati a casa, concludono dalla Polizia di Stato. E poi, in caso di lunghi periodi di assenza, è bene affidarsi a parenti, amici o al buon vicinato, per creare una rete di collaborazione in modo da avere sempre qualcuno che possa controllare che in casa sia tutto a posto.